Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, oggi voglio farvi una cosa. Intanto mi sono preparato un buon tè verde, comunque sono contento e piacere il cacola e la noccia. Poi vi faccio vedere, questa è un account di Facebook, il mio profilo diciamo. Poi vi faccio vedere il mio blog, intanto vi faccio vedere il mio canale di Youtube. Questo è il mio canale con 55 iscritti. Ecco nei miei video, poi andiamo su blog e vi faccio vedere. Questi sono tutti i video che ho fatto sul mio blog. Tutti i video miei. Presto inizia un progetto con alcune persone. Ora vi faccio vedere il gruppo che ho fatto in questo progetto qua su Facebook. Da come vedete già l'artitolo, il progetto libro e giornale sulla storia dell'idea popo. Ok. Ci vediamo a un prossimo video al più presto possibile. Vi mando un bacio. Presto. arialità 2 3